amici oggi strunghiamo un altro sempre super ingazzato amici in questo video vi svelerò una cosa importante innanzitutto sto video è dedicato all'uomo con la testa di un altro ragazzi l'uomo con la testa di un altro chi è l'uomo con la testa di un altro l'allenatore di federico sanna il natural più dopato d'italia ragazzi il natural più dopato d'italia federico sanna e il suo allenatore l'uomo con la testa di un altro ragazzi vi dirò la testa di chi è allora iniziate a scrivere voi già i commenti condividete a raffiche mettete like mettete like perché adesso vi dirò di chi è la testa anzi anzi nel prossimo video ragazzi vi dirò di chi è la testa voi voi iniziate a scriverlo nei commenti ragazzi è un qualcosa di eccezionale nel prossimo video vi svelerò di chi è la testa dell'uomo con la testa di un altro ragazzi l'allenatore di federico sanna il natural più dopato d'italia arrivederci